Sarà riconsegnato alla cittadinanza completamente ripulito dai rifiuti, adeguatamente segnalato nei suoi sentieri il collo esavente, da sempre nel cuore dei passeggiatori, ad attivare il buonsenso civico, come al solito la sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano, da sempre sensibile al tema dell'ambiente montano, che nei mesi scorsi si è occupato della manutenzione. Il primo intervento sul colle, come sottolinea il CAI, arrivò nel 1999, utilizzando fondi regionali per circa 150.000 euro, finanziamento che riqualificò l'area della ex cava di Pietre Regge e del collo esavente mediante interventi di rivestimento vegetale. Furono messe a dimora oltre 8.000 piante, realizzate una serie di sentieri circa 6 km, una conduttura di acqua potabile senza però essere stata completata, oltre ad un'area attrezzata con gazebo, panchine e fontanile. Da allora nessun altro intervento di manutenzione è stato fatto, fino a qualche mese fa. Naturalmente il nostro lavoro rappresenta solo l'inizio di una serie di interventi che andranno fatti per rendere il parco pienamente fruibile a quanti lo frequentano, hanno sottolineato dal CAI, quale ad esempio la sistemazione della recinzione in legno, il ripristino pieno e funzionale dell'area attrezzata, gazebo e panchine, il completamento della conduttura dell'acqua potabile, l'installazione di un punto di energia elettrica. Un nuovo look quindi per il collo esavente, che sarà più bello di prima. Il CAI chiaramente invita alla civiltà.